Chiedo scusa se vi intervengo su una cosa che probabilmente non c'entra niente con la verità, però siccome stavamo discutendo di un capo e siete stati tutti testimoni... Io volevo chiedere a gentilmente perché sono stati già dai carabinieri a chiedere, siccome siete stati tutti quanti testimoni che mi hanno messo le mani addosso, quindi preannuncio che lo vado a denunciare e mi chiamerò la testimonianza, grazie. Allora, sul capo, stiamo anche sul capo della nostra regione, stiamo discutendo della connessione delle parole connessione di parte di opportunità, c'è stato un intervento degli altri consigliere Vigiani. Sul capo, chi ha scritto la consigliere Marco? Allora, come al solito ho un'iniziativa che può essere rodevole e poi ha i suoi aspetti negativi. Io chiedo una domanda adesso all'assessore, però non si può fare domanda e vorrei anche una risposta. È giusto, commissione di varie opportunità ci mancherebbe. Però io ti chiedo, ma che senso ha oggi, questo lo chiedo a lei e a sessore, che senso ha oggi parlare di commissioni di varie opportunità, se poi in tutti gli organi che vengono nominati nelle commissioni non c'è la nomina di una donna. Allora, un discorso è quello che predichiamo e un discorso è quello che pratichiamo. Allora io adesso vorrei dare, però io una risposta la vorrei. Come giustifica il fatto che in tre commissioni, poi vicini, teno e toponomastica, non compare una donna, però lei oggi viene qua a parlare di chi fa l'opportunità. Gratite è una risposta, grazie. Ma se no, la risposta intervento dopo, perché la risposta è la propria. Diciamo sempre che le risposte non arrivano mai. Poi, sapete, non la ripeto, qual è la congruenza tra le due cose. Fare un regolamento e poi nominare commissioni dove le donne non ci fanno. no? Perché se facciamo solo il regolamento, perché le donne hanno fatto il regolamento, ci può pure stare, ma finisce lì. Cioè, quando si fa un'azione, poi ci deve essere un prosieguo. Va bene? Se siamo stati un'ora a discutere del capo, di dare agli ambienti per dire se è giusto o meno quello che è la riduzione, come vengono spesi i voti, questo e quell'altro. Lo stesso perché accadere adesso, se si passa un regolamento di commissioni, fare opportunità, mi si deve rispondere adesso, com'è possibile che non solo non si nomi una donna, ma la stessa assessore che è che le pare cosa, le pare opportunità, non dica una parola sul discorso che non ci pero là un regolamento di bellezza. E poi qui ci rendevi statedi per rimane, sentire, cosa succedono le pare. mahta gemacht questa, pour proprio un regolamento c'è�